Mani sul manubrio, piedi sui pedali e bacino sulla sella. Pedalare in bicicletta significa muovere moltissimi muscoli del corpo e significa anche attività fisica, che in alcune circostanze è sinonimo di calo di peso. Sì, perché se l'attività è costante nel tempo, pedalare fa dimagrire. Un recente studio condotto da alcuni istituti britannici e pubblicato sul Journal of Epidemiology and Community Health conferma che pedalare per almeno 30 minuti al giorno può far dimagrire. Questo, forse, lo sapevamo già, ma questa ricerca ci dice anche qualcosa in più. Se cambiamo il mezzo di trasporto con cui, per esempio, andiamo al lavoro, tipo da automobile a bicicletta, e se manteniamo questa abitudine per circa due anni, vedremo diminuire il nostro indice di massa corporea, che in inglese si abbrevia in BMI. Il BMI è il rapporto tra il peso e il quadrato dell'altezza ed è un valore spesso associato ad altri dati antropometrici. In generale, un BMI compreso tra 18,5 e 24,9 è indice di un peso regolare. In questo studio, i ricercatori hanno preso un campione di 4.056 persone e lo hanno sottoposto a due analisi diverse a seconda del mezzo di trasporto dichiarato per andare al lavoro. 3.269 sono le persone che hanno dichiarato di utilizzare trasporti motorizzati privati. 787, invece, sono le persone che hanno dichiarato di andare al lavoro a piedi, in bici, oppure con mezzi pubblici. Del primo gruppo, 3.090 persone hanno mantenuto le stesse abitudini per tutta la durata dello studio, mentre 179 persone hanno sostituito al mezzo motorizzato lo spostamento, diciamo, attivo. In particolare, 109 persone hanno inforcato una bicicletta o hanno incominciato ad andare a piedi. 70 persone hanno preferito il mezzo pubblico. Le analisi statistiche dicono che questo gruppo ha registrato una riduzione dell'indice di massa corporea di 0,32 kg al metro quadro, che si traduce in circa un chilogrammo per una persona alta 1,75 m. Del secondo gruppo, invece, 519 persone hanno continuato a usare bici o mezzi pubblici, mentre 268 persone hanno fatto il contrario, quindi hanno scambiato la bici con l'automobile. In questo caso, le analisi statistiche dicono che questo gruppo ha registrato un aumento dell'indice di massa corporea pari a 0,34 kg al metro quadrato, cioè circa un chilo per una persona alta 1,75 m. Le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità incoraggiano un'attività fisica moderata ma quotidiana per la prevenzione dell'obesità e di altre condizioni croniche severe. Se dedicare tempo per l'attività fisica può essere costoso o limitato, considerare il viaggio verso il lavoro come un'occasione per fare movimento può essere un'opzione a basso costo e per molte persone anche fattibile.